me ne pentirò solo è tempo, non lo saprà dire beh scioppata draghina prendiamoci un po' di punti sopra il pair che ce n'è uno più brutto dell'altro, cioè uno è salvabile e gli altri due ne... di soluzione è quello carino ti blocca la finestra quando ti ci passa un furgo una volta che l'hai ferito cioè ferisci, il sul va attraverso la finestra, quella si blocca oscurità riservata ti dice quanto vista ma solo quando... forse non è neanche così tanto male però insomma controlli un armadietto dovresti perdere tempo a controllare gli armadietti che si è valido ma con gli altri killer fa quello che fa poi c'è sto qui che è un terrore tarocco ma è un terrore... un terrore contagioso che sarebbe creato dal demo ma tarocco qui quando curi ti... subiscono il ciecamento però ti trovo un po' il tempo... iniziamo subito a trovare una partita la cosa è che ci sono le lobby un po' lentine dopo poi... in una prova una lobby perdiamo tempo a leggere anche gli addoni non so... però poi c'è ma con i killer che c'ho già il livello 1 c'ho già il loro fermo quindi... dovrei interovere... beh almeno così forse non... iniziamo con il pops si rovino... parredamenti non c'è se lo vado con il toquo non c'è bellissimo dai il killer non l'ho mai giocava c'ho messo la challenge beh è meglio che nessuna non prenderò troppo tempo a fare metti in caso che capiti di rompere un palle per rassitata vedo che ci sono dei bei percolo più pessimo inutile dell'alto livello 15 sicuro è meglio di qualunque cosa faccia è meglio di cacciatore c'è uno sconto con il giro a perchi di merda rimarrò a ribadino fino a quando mi darei un percolo a vedere questo qualche roba ok il terrore carottola arrivo al 20 poi mi saprò via come potete vedere un po' di modi livello 20 ok boys allora pop sicuro perché quando devi giochi per lì allora poi mettiamo mettiamo i suoi nelle studie vedo quanto sono penuli questo qua e l'altro non l'ho sbloccato l'altro ripareva l'unico che mi sembrava decente e lo lei aumenta i 20 secondi la durata di e imbrunire qualunque cosa sia sono sicuro sia tanta roba imbrunire diventi scuro imbrunire appassisce ribadisco i don't sapere niente su sto roba ci ho visto però non mi sono informata che brutta partita perché mai un surdo dove entrerà negli armadetti forse questo è buono forse sulla carta sta per iniziare la partita e basta mettere un'offerta cazzo mi ha caduto mettere un offerta mettere un offerta qualsiasi due no ce ne sono forse le ho confuso i capelli quello ce l'ha con il cappello quindi è un professionista un veterano questi mi arano appena entri in partita sapete questo che ottimo momento è l'ottimo momento per mi vedo una bottiglia d'acqua che va non mi mi devo spostare non lo faccio guarda dai ok ciao kuma per rivederci avrà mai detto che lo scemo che ancora parla ma fai come tutti questo è enorme giusto piu 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 è calda eccolo grazie ma non le cuffiette vabbè ok poter si sta caricando aspettiamo un attimo rompiamo i talli madonna che cazzo è lento che premi L1 troppo curiosità qual è L1 laddio che scomodità potevano mettermi R1 piuttosto quando sono lì mi sento mi sento su no se non c'è un potere così è venuto a caricare madonna non c'è un po' non c'è un po' non c'è un po' non c'è un po' manc sempre un po' non c'è un po' ma non c'è un po' mi sento mi sento mi sento ma non voglio usarlo che palla però che fastidio non è quella di prima qualcuno fosse assieme adesso dove sarà il gancho no ma non voglio come ti sono ma non come è venuta no pò come è venuta è tassi è tassi mi viene indicata i loro cing cing li unico ma ma io ce l'ho comprata vai per scambio adesso sono occupato potrei anche chiusa la porta, io prima mi ero alzato per un motivo per chiuderla per chiuderla scopatiamo di sfruttarsi questa non è una mia e questo chiamolo eh? spaghetti 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 ci sono ancora ma non aveva detto che gli aveva dato i cani ma appaddo ok l'aveva messo lì per nasconderlo da te e poi mi aveva detto l'ho dato che gli aveva dato i cani ci ha mentito quindi tu dici ok 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 e lo fai che mi mette a disagio perché si qui per la play e dopo arrivo una cosa più o meno dieci minuti due tre quattro ventotto devi aspettare ormai è iniziato qui dopo vado da peccati Grazie a tutti. 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 Oh, voglio pulire in fondo. 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 No, voglio pulire in fondo. Oh, voglio pulire in fondo. Oh, voglio pulire in fondo. Sì che funzionano, no, ma è. Involontariamente ho fatto una bossa pelle. Aspettiamo che ci dia la schermata di fine partita e poi potrai rompere le schermate. Con amici, con amici, con amici. A cosa? Non lo so, non lo so, non lo so. Come non lo so? Non lo so, non lo so, non lo so. E non avete ancora deciso? Cioè tu hai deciso che vuoi la play per... Ma con cosa? E' che non lo so, 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 non lo so. Ah, esiste Discord, quello c'è anche per telefono. Ma dobbiamo giocare alla play, quindi facciamo più la parte della play. Necessità approfondire.